Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Tutti pazzi per Superliscio, la trasmissione della domenica pomeriggio di ITV dedicata alla musica, al ballo, al divertimento, vola e registra Ascolti Record. Settimana dopo settimana l'appuntamento delle 16 condotto da Mariella Petagine e dalla Eurotaverna di Desio sta incollando al televisore migliaia di spettatori. Per seguire gli spettacoli animati dalle grandi orchestre del liscio italiano, sorrisi e divertimento per tutte le età. Sul palco le esibizioni dei migliori musicisti del paese che propongono i brani più coinvolgenti ed emozionanti, dalle canzoni più moderne ai classici che hanno fatto la storia del ballo liscio dalla Romagna al resto d'Italia. Superliscio è in programma ogni domenica pomeriggio a Palatire dalle 16 su ETV. Superliscio è in programma ogni domenica pomeriggio a Palatire dalle 16 su ETV.